Musica Nei prossimi giorni cambierà il settore televisivo locale Vicio Azzurra TV disponibile sul canale 17 del telecomando Pedopornografia in Piemonte raccolte 18 denunce nel 2021 alla Pol Postale indagato 50 persone Atti mandalici ad Arona presa di mira alla chiesa del quartiere Sacro Cuore e il nuovo parco giochi insieme A Domodossola la polizia locale ha denunciato due persone perché responsabili di furti in negozi della città Sarà presentato nei prossimi giorni alla città agli operatori turistici il master plan del turismo di Omenia Calcio, rinviati tutti i recuperi, anche quello del Gozzano nella basket non si giocherà neppure Paffoni Varese nella fine settimana Ben ritrovati in apertura del nostro giornale La Linea al nostro direttore che illustrerà le principali novità Che riguarderanno a breve il settore della televisione locale e dunque anche la nostra emittente Innanzitutto inizio col dirvi che Vicio Azzurra TV è già disponibile sul canale 17 del vostro telecomando Potete semplicemente fare la risintonizzazione ma sentiamo le novità dalla voce del nostro direttore In questi giorni prende il via la radicale trasformazione del settore televisivo nazionale Trasformazione che ovviamente riguarda anche la nostra emittente Per oltre 40 anni Televicio è nata nel settembre del 1980 Attraverso i nostri impianti di trasmissione abbiamo portato il segnale televisivo nei centri principali E in tutte le vallate del Verbano, Cusiossola e della provincia di Novara Con la riorganizzazione nazionale del settore televisivo la prima cosa che cambia è proprio questa Non saremo più noi a occuparci della rete di trasmissione ma un unico soggetto regionale Individuato da un bando del Ministero dello Sviluppo Economico Per il Piemonte questo soggetto è A-Towers che con RAI si è aggiudicata praticamente tutte le regioni italiane A partire dai prossimi giorni, seguendo un rigido calendario predisposto dalle autorità competenti Saranno spenti gli impianti di tutte le emittenti locali piemontesi Contestualmente in quelle aree i segnali delle tv locali saranno veicolati dalla nuova rete di A-Towers Purtroppo la nuova rete non è capillare come le reti attualmente esistenti e alcuni territori Soprattutto quelli delle vallate alpine ma anche alcuni territori servite dagli impianti lombardi Non saranno più coperti dai segnali televisivi Per quanto riguarda la nostra regione il calendario si concluderà il giorno 8 marzo Giorno in cui anche le reti nazionali principali dovranno passare alla nuova tecnologia E qui la seconda novità Per ricevere i segnali televisivi con la nuova tecnologia dovremo tutti essere dotati di televisori di ultima generazione Per intenderci quelli acquistati negli ultimi 4 o 5 anni Oppure di un decoder La terza novità riguarda il numero del telecomando in cui ci troverete Il 17 Anche in questo caso il ministero ha pubblicato una serie di bandi attraverso i quali stabilire Secondo una graduatoria quali emittenti avessero il diritto di essere veicolate dalla nuova rete e con quale numero di telecomando Naturalmente tutti i cambiamenti da un lato ci spaventano E dall'altro ci aprono nuove opportunità ed è appunto a quest'ultime che noi vogliamo guardare Televico 2000 nel 1980 guardava agli anni 2000 come futuro e al VCO come territorio di riferimento Oggi diventiamo una rete regionale anzi una delle prime reti regionali Vogliamo come sempre condividere questa opportunità con il nostro territorio per promuoverne le eccellenze e le peculiarità Stiamo già lavorando a una revisione del palinsesto nel quale conservare ovviamente i nostri programmi principali a iniziare dai telegiornali Ma arricchendolo con programmi rivolti agli oltre 4 milioni di piemontesi che potranno vedere i programmi di VCO Azzurra TV Fin qui le note positive Purtroppo come detto in alcuni territori l'attuale rete di A-Towers non prevede impianti Anche se non è più materia di nostra competenza diretta siamo ovviamente a disposizione Per valutare possibili soluzioni con gli enti locali nell'interesse della nostra comunità Grazie direttore Ora noi procediamo con la cronaca per darvi il consuntivo di un anno di lavoro della polizia postale in Piemonte Pedopornografia online Sono 18 le denunce per sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento che la polizia postale del Piemonte della Val d'Aosta ha raccolto nel 2021 50 le persone indagate, 45 le perquisizioni eseguite Sono i dati contenuti nel report di fine anno del Centro Nazionale per il Contrasso alla pedopornografia online In tutto il Piemonte sono state condotte più di 5.500 indagini con un aumento del 70% rispetto al 2020 Tra le più significative l'operazione che ha consentito l'arresto di un libero professionista di 50 anni Produttore di materiale di pornografia minorile L'uomo abusava di due bambini di 6-8 anni Aveva prodotto più di 9.000 video che venivano scambiati a pagamento su Telegram 23 le persone denunciate e 3 quelle arrestate Sono in aumento a livello nazionale anche i fenomeni di sextortion e revenge porn In Piemonte sono stati 35 i casi trattati Oltre 500 invece quelli che riguardano le truffe online in materia di e-commerce 130 le persone denunciate Tra le nuove truffe e quelle legate alla fabbricazione di falsi green pass Sempre in correlazione all'emergenza sanitaria La Polizia Postale ha dedicato particolare attenzione al monitoraggio di gruppi Nati nella piattaforma di messaggistica istantanea Per individuare eventuali manifestazioni di piazza non autorizzate In particolare il 15 novembre scorso sono stati eseguiti in collaborazione con la Digos 17 decreti di perquisizioni nei confronti di persone legate al canale Telegram Novax basta dittatura Uno degli spazi web di maggiore riferimento dei negazionisti del Covid In aumento anche i reati financial cybercrime In Piemonte sono 76 le denunce 30 le persone denunciate Oltre 2 milioni di euro La somma recuperata Nel servizio si accennava anche ai controlli per quanto riguarda i Novax E allora noi vediamo come sta andando l'andamento della pandemia in Piemonte Vi dico subito che sono stati 20.453 i nuovi casi di contagi Covid Oggi in Piemonte comunicati dall'unità di crisi della regione Piemonte Il tasso di positività nella nostra regione oggi è schizzato al 19,6% I decessi registrati sono stati 21 di cui 2 nella giornata di oggi Nel VCO il numero dei decessi è salito a quota 384 L'ultimo nella giornata di ieri La curva dei ricoverati è in linea con la tendenza dei giorni scorsi In Piemonte ci sono stati più 5 ricoveri nelle terapie intensive Complessivamente sono 117 i pazienti ricoverati Più 57 negli altri reparti Vuol dire che ci sono 1.411 pazienti Il dato più alto di sempre anche per quanto riguarda i guariti Che oggi si sono attestati su quota 5.033 Ora invece parliamo degli atti vandalici scoperti In questi primi giorni dell'anno ad Arona I vandali non hanno rispettato le festività Anzi, si sono accaniti in particolare sui simboli religiosi Nelle notti di fine d'anno hanno preso di mira la chiesa del quartiere Sacro Cuore ad Arona Imbrattando il portone e la soglia con vernice spray nera E rompendo le figie di Gesù Bambino nella capanna adiacente Nel vicino parco insieme hanno scritto una grossa A sulla bacheca Così all'ingresso del liceo Enrico Fermi di via Montenero La mattina del 30 dicembre davanti al portone della chiesa di San Giorgio Nella frazione Mercurago è stata trovata una bomboletta di vernice spray nera Accanto ad una scatola di fiammiferi e scritte sull'ingresso I volontari hanno provveduto alla pulizia Mentre è stata presentata denuncia ai carabinieri contro i gnoti Intanto l'amministrazione comunale di Arona Ha effettuato uno stanziamento per implementare la videosorveglianza cittadina A confermarlo è l'assessore per la sicurezza Tullio Mastrangelo Che afferma Abbiamo deciso di incrementare i controlli con telecamere Saranno posizionate nelle frazioni di Montrigiasco e Daniente Vicino alle scuole elementari di Mercurago e di Arona E sui viali di accesso ai cimiteri di Arona e Mercurago Davanti al campo di calcio di via Montenero E in piazzale Vittime di Bologna vicino al palazzetto dello Sport Ne metteremo altre sulle rotonde di via Torino Una all'incrocio tra via Mazzini e via Vittorio Veneto E l'altra su quella vicino al ponte di Ferro In molti di quei luoghi ci sono stati dei vandalismi o furti sulle auto in sosta Questi ultimi atti di vandalismo non sono sicuramente da collegare i giovani della Movida Anche perché non sono avvenuti sui viali del Lungolago Ma nella zona dell'entroterra ronese Saranno le indagini dei carabinieri della locale stazione A fare luce e scoprire gli autori degli episodi riprovevoli Ora a Domodossola dove la polizia municipale ha denunciato per furto aggravato due persone Un uomo e una donna denunciati a Domodossola dalla polizia municipale Perché accusati di furto aggravato è successo prima delle festività di Natale Entrambi si sono resi responsabili di furti in due differenti esercizi della città L'uomo ha rubato un apparecchio elettronico da discaffali di un negozio che vende articoli per il bricolaggio Fai da te ad accorgersi del fatto È stato il personale del negozio che ha così allertato la municipale Gli agenti una volta intervenuti hanno anche preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all'esercizio Il ladro scoperto non ha potuto che ammettere l'ha fatto È stato denunciato per furto aggravato e ha già provveduto a restituire il maltolto al negozio Sempre le telecamere al circuito chiuso di un supermercato domese ha aiutato la polizia locale A denunciare una donna sorpresa con due sacchetti della spesa colmi di genere di prima necessità E alcuni pacchi di mascherine rubati poco prima In questo caso ad accorgersi del furto è stato il personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i vigili urbani Andiamo a Verbania per parlare delle ultime decisioni dell'amministrazione Marchionini in tema di Tari Riduzione del 40% sulla tassa dei rifiuti per i redditi più bassi L'ha deciso raggiunta nell'ultima riunione di dicembre Lo sconto è previsto sia per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro Sia per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ma con almeno 4 figli a carico È da sottolineare, affermano il sindaco Silvia Marchionini, l'assessore al bilancio Anna Bozzuto Che la riduzione è uno sforzo sul bilancio per venire incontro alle esigenze dei cittadini Considerata la natura straordinaria dell'emergenza sanitaria ancora in atto Adottando misure adeguate in relazione alle condizioni economiche e finanziarie Che gravano sulla collettività cercando di dare supporto alle famiglie meno agiate Che hanno subito i maggiori effetti negativi Per chiedere la riduzione è necessario presentare la domanda il 31 gennaio 2022 Tutta la modulistica è presente sul sito del Comune L'amministrazione procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese Pertanto in caso di falsità dei dati dichiarati si provvederà al recupero della riduzione concessa Parte ufficialmente domani la stagione dei saldi in tutte le regioni italiane Piemonte compreso secondo Confesercenti 4 italiani su 10 sono determinati ad andare a caccia di sconti Con in tasca un budget in media di 120-150 euro Il giro d'affari complessivo in base alle stime di Conf Commercio Supererà i 4,2 miliardi nel nostro paese Ora invece parliamo di turismo e dei progetti Che ha in campo l'amministrazione Marchioni a Domenia per il nuovo anno Assessore quali sono le idee in cantiere per il 2022 dal punto di vista turistico E dal punto di vista del commercio Sicuramente si riaprono le danze con il masterplan Quindi inizio anno ci sarà la presentazione Per qualcuno ancora non è ben chiaro che cosa significhi presentarlo la città e i cittadini Banalmente significa aprire questo bellissimo libro Soprattutto di grandi contenuti E far comprendere a noi cittadini Perché in primis sono anch'io una cittadina Qual è il contenuto e qual è il tipo di trasformazione verso il quale ci stiamo muovendo Già muovendo in realtà Qual è il contenuto che più secondo lei potrà dare slancio e una nuova visione di Domenia? Sicuramente avere attenzione nei confronti delle attività Sia quelle in essere che hanno già manifestato l'intento di migliorie E qui faccio riferimento al Deora e Piano Deora E parallelamente ad un'evoluzione sempre per quanto riguarda le attività Quindi anche le attività produttive a livello di mentalità Perché si può parlare di turismo nel momento in cui La macchina, così definiamo la Umenia Si muove a tutto tondo in sinergia A proposito di sinergia, lei in conferenza ha sottolineato proprio l'importanza di lavorare fianco a fianco con i commercianti e con gli operatori Costantemente, io da quando sono scesa in campo non faccio altro che dialogare, confrontarmi e interagire con tutta la linea dei commercianti E per commercianti intendo ristoratori, intendo chi ha l'attività di abbigliamento Tutti, insieme a loro proprio passo dopo passo interagisco e trasferisco quelle che sono le mie idee del turismo Anche solo che cos'è una vera e propria manifestazione Faccio l'esempio del Lux Arcana sotto Natale per esempio Che cosa significa per il commerciante portare ad un livello superiore l'attrattiva all'interno di Omenia Vi abbiamo già riferito nei giorni scorsi del nuovo ufficio turistico a disposizione della città di Domodossola Soprattutto dei turisti che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi Ebbene, il progetto è nato da fondi Interreg Il vice sindaco nei giorni scorsi ha presentato la nuova opera ai partner italiani e svizzeri È stato il vice sindaco di Domodossola, Franco Falciola, a presentare lo scorso mese di dicembre Ai partner del progetto Interreg Trenino Verde delle Alpi Il nuovo infopoint dell'ufficio turistico di Domodossola Ricavato all'interno della stazione internazionale con accesso sia dall'atrio che direttamente dai binari È basato molto sulla comunicazione e sulla convivialità, ha spiegato Falciola Abbiamo voluto creare questi spazi dove si possono vedere i materiali di promozione turistica del territorio Che incrementeremo sempre più nel tempo La location è sicuramente fondamentale per i turisti che arrivano Un elemento caratterizzante sono i colori e le forme che danno un'immagine nuova I partner elvetici Città di Briga, Canton Vallese e Ferrovia BLS Hanno espresso soddisfazione per l'apertura dell'infopoint Auspichiamo uno scambio di personale con l'ufficio di Briga per qualche giorno all'anno Ha spiegato Walter Fickbonner, rappresentante del capofile elvetico Perché è importante che conoscano nel dettaglio le rispettive offerte Per dare la migliore opportunità ai turisti Soddisfatta la provincia del VCO, come testimonia il vicepresidente Un punto importantissimo, devo dire che è stata una scelta strategica molto mirata Perché il trovare la sede dell'ufficio turistico qui proprio nella stazione di Domodossola Fa sì di avere questa sinergia con gli svizzeri che ci dà la possibilità di questa collaborazione Sicuramente va nella direzione del futuro Di una maggior collaborazione anche con la confederazione elvetica E ho sentito anche i guani propositi di collaborazione con i vari uffici turistici elvetici con il nostro Quindi sicuramente è una cosa positiva Da inizio anno Fabrizio Morea non è più il presidente della Proloco di Legro Resta però invece saldamente al comando per quanto riguarda l'Accademia del Muro Dipinto Bilancio di fine anno per la Proloco di Legro e anche per l'Accademia del Muro Dipinto Con tante tante novità, compreso anche un cambio della guardia Sì, un bilancio positivo sicuramente rispetto agli anni precedenti Quest'anno possiamo dire di avere acquisito una particolare attenzione Per i comuni che stanno intorno alla provincia di Novara Che ci hanno chiamati per realizzare muri dipinti, affreschi, restauri E tante cose che stiamo provvedendo di portare avanti Questo ci ha dato anche lo sprone per un cambio di gestione Sia nella Proloco di Legro che io fondai nel 1989 Sia nell'Accademia delle Arti che da 23 anni cura i muri dipinti di Legro Per cui oggi avviene il cambio di gestione della Proloco da parte mia Che cede lo scetro a Daniele Platini Mentre invece il sottoscritto rimarrà a condurre in avanti per il prossimo anno Anche l'Accademia dei Muri Dipinti Un successo di tante iniziative che partono da Armeno, da Mezzamerico Dall'ospedale di Novara dove abbiamo realizzato e ancora da inaugurare Un reparto a colori E a tante altre iniziative che stiamo curando nel comune, nella città di Santià Di San Benigno Canavese nella città metropolitana di Torino E in altri luoghi come in Valle Antrona, in Valle Ossola, in Valle Vigezzo eccetera E quindi noi andiamo avanti, la Proloco si divide ma continuerà a cooperare per portare avanti il nome di Orta di Legro insieme Dal lago alla montagna andiamo a San Domenico, vediamo Sono stati distribuiti lunedì davanti all'hotel Lavetta di San Domenico Ad atleti, dirigenti ed allenatori dello Sciclub San Domenico I caschi brandizzati San Domenico Ski Sciclub San Domenico È stato l'atto iniziale di un'importante collaborazione Afferma Andrea Malagoni di San Domenico Ski Che punta soprattutto a creare da queste due importanti realtà un'azione sinergica a favore del territorio Gli fa eco il presidente del sodalizio sportivo Alessio Lorenzi Lo Sciclub San Domenico, che raggiungerà nel 2022 il prestigioso traguardo dei 112 anni dalla sua fondazione Sta vivendo un periodo di forte crescita, ha affermato Nell'ultima stagione abbiamo portato in pista, tra agonisti e pre-agonisti Una trentina di bambini, con una forte presenza di giovanissimi Che sono la linfa per il futuro di un'associazione come la nostra Da sempre la sinergia con la stazione scistica di San Domenico Ciamporino È parte integrante del nostro operato In particolare, a partire dalla stagione in corso Questa collaborazione si è ulteriormente intensificata Grazie ad un supporto diretto della San Domenico Ski Che a fronte di un progetto condiviso ci sosterrà nel nostro percorso sportivo La consegna dei caschi brandizzati San Domenico Ski Sci Club San Domenico È il primo tassello di questo nuovo progetto Che punta a consolidare e far crescere quella sintonia A conferma della forte integrazione con la stazione scistica di San Domenico E con tutto il territorio varzese Il progetto territoriale è promosso e favorito da Ivan Svilpo Presidente di San Domenico Sport Che crede fortemente nell'unione delle forze a favore dello sviluppo turistico territoriale E allora parliamo di sport perché in primo piano abbiamo il calcio Perché vi dobbiamo dire che ci sono diversi rinvii decisi nella serie D E poi vi devo dire anche che i rinvii colpiscono anche il mondo della basket Perché nel fine settimana non si giocherà l'incontro fra Paffoni e Varese Ma torniamo al calcio Rinviati tutti i recuperi, anche quello del Gozzano Non si gioca il match contro il Dertona Probabile salitamento del torneo al 23 gennaio La società Gozzano ha comunicato che la gara di recupero della quindicesima giornata Tra il Gozzano e il Dertona è stata per la seconda volta rinviata a data da destinarsi Le motivazioni sono scontate Problemi di Covid all'interno del gruppo Rosso Blu D'altro canto il dipartimento della serie D Ha poi fatto sapere che anche tutti i rimanenti recuperi di giornata del Girone A Asti, Pondonaz, Varese Caronnese e Imperia Casale Sono stati rinviati per la stessa ragione Lo stesso dipartimento domani si incontrerà con il commissario straordinario della Lega di Lettanti Giancarlo Abete Per chiedere la sospensione del campionato di almeno due settimane L'ultima giornata del Girone di Andata slitterebbe da domenica 9 gennaio a domenica 23 In questo periodo saranno, se possibile, giocati alcuni recuperi Ce ne sono 10 da disputare soltanto nel Girone A Mentre in tutta Italia sono ben 54 Che cosa significa la frase buon anno? Perché non sia una frase poco carica di significato Su questo ci invita a riflettere questa settimana Don Renato Sacco Bentrovati a tutti e a tutte Siamo all'inizio di un nuovo anno Ci si augura buon anno Lo auguro anche io ognuno di voi Ma ci chiediamo cosa vuol dire buon anno? Una frase fatta poi con tutte le preoccupazioni che abbiamo Di salute, economico, i ragazzi, il ritorno a scuola, la mascherina Persone ricoverate, l'economia, le bollette che aumentano Le preoccupazioni a livello mondiale Cosa vuol dire buon anno? Se non è una frase fatta la dobbiamo riempire di contenuto Augurarci davvero che sia un anno di pace A me sembra, così dopo aver fatto anche la marcia nazionale la notte di Capodanno a Savona La veglia, perché la marcia non era possibile A me sembra di notare che anche negli auguri di questi giorni dei politici Non è ritornata la parola pace così sovente Qualche volta mi sembra anche all'interno della Chiesa Quasi che, come dire, fa più paura Parlare di pace che di guerra E infatti in queste situazioni di fatica, di sofferenza Il Papa lo dice bene Le spese per le scuole vengono considerate appunto una spesa Ma aumentano le spese militari Allora noi dobbiamo dire No, ci deve far paura la violenza Ci deve far paura la guerra, l'indifferenza Non la pace E allora forse dobbiamo riscoprire anche quello che ci suggerisce La festa dell'Epifania tra pochi giorni Che ci tocca un po' tutti, credenti e non credenti Alla fine di quel Vangelo si dice che i magi avvertiti in sogno Di non tornare da Erode per un'altra strada fecero ritorno Ecco, dobbiamo trovare anche noi l'altra strada Non quella di Erode Non quella dell'indifferenza, della violenza Delle donne uccise, dei morti sul lavoro Non quella delle spese militari che aumentano Non dimentichiamo che in Italia si spendono 40.000 euro al minuto Non è vero che non ci sono i soldi Adesso c'è il problema delle bollette I soldi ci sono E che vanno ad arricchire chi è già ricco E impoverire chi è povero Vanno nelle spese militari I nostri F-35, ricordiamo, costano 150 milioni di euro l'uno E' questa la strada? E' quella delle armi nucleari che ci sono ad Aviano e a Ghedi? No, dobbiamo accogliere l'invito del Papa Che già prima di Natale ci diceva Le armi non sono la strada E allora che sia un anno davvero di pace per tutti Di salute, di cura e non di guerra Ci salutiamo qui e ci vediamo come sempre Con non di solo pane venerdì Grazie naturalmente a Don Renato Io mi fermo qui per gli aggiornamenti VCAzzurraTV.it Grazie e buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti